VLTV, la tua tv. Priolo Miasmi, il sindaco di Priolo scrive ai direttori degli stabilimenti del petrolchimico e alla prefettura. Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, nei giorni scorsi ha dato mandato al comando di polizia municipale di intervenire per capire da dove venivano gli odori nauseabondi, effettuando un primo campionamento dell'aria. Ma le condizioni d'eventi che spirano a ventaio, avvertiti sia a Priolo che in altre località del comprensorio industriale, hanno messo in allarme gli abitanti della zona. Gianni ha inviato una nota all'ARPA con la quale ha richiesto notizia a tutti gli stabilimenti del petrolchimico sulle attività lavorative dei singoli stabilimenti e su eventuali disservizi che hanno creato disagi o fattivi alla popolazione. La nota del primo cittadino di Priolo è stata recapitata per conoscenza alla prefettura di Siracusa, al Dipartimento regionale di protezione civile, all'ARPA, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al Commissariato di Polizia di Stato e alla stazione dei Carabinieri di Priolo. Corruzione, accesso illegale a banche dati, 16 indagati, indagine della Guardia di Finanza su società recupero crediti, anche dipendenti IMSS. Tre dipendenti pubblici di IMSS e un comune sardo avrebbero passato dietro compenso informazioni riservate a imprenditori del settore recupero crediti con due sedi, una a Palermo e l'altra a Riccione. L'organizzazione, che aveva ramificazioni in Sardegna, Campania ed Emilia Romagna, è finita nell'inchiesta denominata Interrogazione a sorpresa condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo. I militari del nucleo di Polizia Economica e Fidenziaria hanno eseguito un'ordinanza del GIP di Palermo su richiesta della Procura. Sono 16 gli indagati coinvolti nell'inchiesta. Sono accusati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, corruzione, accesso abusivo alle banche dati, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio, nonché responsabilità amministrativa degli enti dipendenti dagli anzidetti reati. Dopo ricorso al Tribunale del Riesame da parte della Procura, sono stati emessi gli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore di Riccione e l'interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriale per sei mesi per l'amministratore di fatto della società palermitana. Con lo stesso provvedimento è scattato il sequestro preventivo nei confronti di tre aziende di recupero crediti e la disponibilità finanziaria per un valore di oltre 77 mila euro, che sarebbe pari al profitto dell'ipotizzata corruzione. L'esecuzione delle misure è sospesa fino al momento in cui la decisione diverrà definitiva. 24 milioni e mezzo di euro è quanto ha pagato l'anno scorso lo Stato per risarcire chi ha subito ingiustamente la carcerazione preventiva. Un conto certamente meno salato di quello che era toccato alle casse pubbliche nel 2020, quando l'esborso era arrivato a sfiorare i 37 milioni di euro, ma comunque ancora molto consistente. 50 invece magistrati finiti sotto procedimento disciplinare dal 2019 al 2021 per scarcerazioni intervenute oltre i termini di legge, ma nessun procedimento si è finora concluso con una condanna. È la realtà che racconta la relazione annuale sulle misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione 2021, presentata dal Ministero della Giustizia al Parlamento. Dati che sembrano destinati a far discutere, proprio mentre è alta, la polemica tra i magistrati e la politica sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. I risarcimento più sostanziosi sono stati emessi in relazione a provvedimenti della Corte di Appello di Reggio Calabria, oltre 6 milioni e 700 mila euro complessivi, per una media di più di 88 mila euro, doppia di quella nazionale. E quasi ovunque c'è un deciso incremento delle decisioni di accoglimento delle domande di riparazione. Il rapporto segnala anche come effetto della pandemia il calo nel bienio 2010-2011 dell'insieme delle misure coercitive personali, compresa la custodia cautelare in carcere. Carcere di cui ha parlato la Ministra Marta Cartabia al Question Time, assicurando che dopo il via libera del garante della privacy, partirà la sperimentazione per le bodycam ai poliziotti penitenziari. La corsa dell'Unione Europea all'indipendenza dall'energia russa è ufficialmente partita, ma nel frattempo le aziende europee si sono affrettate ad aprire conti in rubli, come indicato da Mosca. Il day after del lancio del maxipiano Repower EU non ha diradato la coltre di dubbi che continua ad aleggiare sul dossier energetico. Circa la metà delle 54 società straniere che hanno contratti con Gazprom per l'acquisto di gas russo hanno aperto conti bancari in rubli, ha annunciato il Cremlino. Confermando quanto a Bruxelles e nelle cancellerie europee era ormai noto. Ma la Commissione Europea non cambia posizione, l'apertura di un conto in rubli viola le sanzioni. Le linee guida prevedono il pagamento in euro o dollari e una dichiarazione per affermare di aver rispettato in tal modo i contratti. Eppure, al di là delle apparenze, non è in atto un braccio di ferro vero e proprio tra esecutivo dell'Unione Europea e aziende, Eni inclusa. Chi ha aperto il conto in rubli non ha l'obbligo di comunicarlo alla Commissione, ma solo al suo governo. Ed è lo Stato membro, ripete Bruxelles, a dover vigilare sull'attuazione delle sanzioni. La Commissione quindi non può intervenire. Può semmai aprire una procedura di infrazione nei confronti del Paese che non ha vigilato.